Appunto protestato per la crisi auto a Pomigliano e non solo. Nel pomeriggio è intervenuto il ministro per le imprese Adolfo Urso che ha detto rispetto i sindacati, rispetto anche il Parlamento per questa ragione convocherò Stellantis soltanto domani. L'adesione intanto dovrebbe aggirarsi intorno al 40% per quanto riguarda lo stabilimento di Pomigliano. In 20.000 hanno raggiunto Roma. A Napoli c'è stato un CT di UGL che però non ha aderito alla manifestazione romana. Vediamo perché nel servizio di Emanuela Birra. Gli operai Stellantis e i sindacati chiedono aiuto e scendono in piazza questa mattina perché il settore auto è in forte crisi e il rischio è che molti addetti saranno costritti alla cassa integrazione. I sindacati Fismi, QGL e lavoratori sono fortemente preoccupati dallo stop parziale annunciato e manifestano sotto una pioggia incessante. In questo momento noi stiamo manifestando in tutte le città italiane perché il settore dell'automotive è in profondo rosso. I plant italiani praticamente non stanno lavorando. Un dato da considerare è che al 30 settembre il consuntivo delle auto prodotte in tutti i plant italiani è di circa 270.000. Considerate che questo è un numero che un plant medio faceva negli anni in cui si lavorava. Quindi siamo in una fase molto molto critica, in una fase in cui i lavoratori non ce la fanno più perché non si può vivere sempre in eterno di ammortizzatori sociali fin quando ci sono perché poi sta venendo fuori un ulteriore problema che gli ammortizzatori sociali sono quasi assauriti. Tra un po' parliamo di licenziamenti, soprattutto nella componentistica, nell'indotto. Quindi siamo in una fase in cui veramente non ce la si fa più. Come mai non vi siete uniti alla manifestazione a Roma? Questo è un punto dolente. È un punto dolente perché proprio per quello che dicevo prima, in un momento così critico siamo quasi a un passo di non ritorno perché è davvero difficile risolvere questa problematica. In un momento così difficile il sindacato non doveva spaccarsi. Noi veniamo da circa 12 mesi di riunioni che abbiamo fatti in maniera congiunta con il ministro Urso, con Stellanzi, tutti i sindacati insieme e non capiamo come mai siamo in piazza a manifestare per le stesse problematiche, non capiamo perché ci siamo disuniti. È una cosa che hanno scelto Fium, Fium e Wilm. Altri giorni di stop alla produzione sono infatti annunciati per novembre, addirittura nove nella fabbrica di Pomigliano d'Arco. Bisogna portare le istanze a Stellantis, al CEO in quale sta spostando tutte queste produzioni e delocalizzando un po' tutto. Siamo qui a manifestare affinché comunque l'azienda investi soprattutto in Italia. Le parole di Tavares preoccupano tanto. E tornano a protestare nonostante il maltempo anche le mamme di via Alessandro Volta dove il primo ottobre è...